Eccoci qua, avanti signori venite, venghino, venghino da questa parte che a Firenze abbiamo una offerta straordinaria Attenzione signora, lei dove vuole andare? Questo è un posto pubblico, passi adesso o non passi più, passi adesso o non passi più, prego Ma c'hai da parlarci dentro? Prova un po'? Atto! Olpe! Allora io mi chiamo Atto e lui è Olpe e siamo qui per presentarvi una offerta straordinaria Bravo Olpe! Allora, noi vendiamo signore a lei come tutta Firenze e anche loro là su quell'altro marciapiede Venghino gli autisti, ma non autisti normali, vendiamo degli autisti di prima qualità Vendita autisti in qualità? Noi abbiamo un'agenzia in Bulgaria, in Polonia, in Romania, per farvi risparmiare il 40% E allora qui siamo per proporvi degli autisti senza INEIL, senza IMS, senza la tredicesima, senza la quattordicesima, senza i contributi ma soprattutto senza sindacato! Senza sindacato, signori e signori! E si può fare questo presentandoci alla vostra agenzia Anche il nostro signore non ci ha dato un bel sole questo poperiggio perché ci vuole ostacolare, perché noi siamo i migliori! Piove, governo ladro, piove! Allora, portiamo qua, portiamo qua, portiamo qua, Olpe! Portiamo qua la merce, porta quella merce! Vada a prendere! Prendi la merce, prendi la merce, prendi la merce, prendi la merce! Eccole là, prendi la merce che poi noi facciamo un'altra cosa, eccola qua! Forza! 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 Avanzi! La signora non è dei nostri, prego, se no ormai ci ha preso il via! Questa è la merce! Allora, come sentite anche dalla musica, noi vendiamo autisti interinari di qualsiasi nazionalità, soprattutto questi autisti non si ammaleranno mai! Fai vedere la dentatura, fai vedere la dentatura, guarda qua che dentatura, guarda come cavallo, guardate un po', guarda qua, fai vedere il polpaccio, fai vedere là! Ecco, guardate i bicipiti, guarda là che bicipiti! I pettorali, i pettorali, guarda che pettorali, guarda che pettorali! Che storia che è questa, 40% in meno! 40% di sconto! E siamo noi, li portiamo direttamente dall'est! Guardate qua! Questo è il nostro cavallo di razza, guardate! Lui fa 26 ore ogni 24! 26 su 24! E non si ammala mai! Quanta è l'ultima volta che ti sei ammalato? 1975? 73! 73! Ed è nato nel 71! Bravo! Un bel applauso! No sindacato, mai malato! Questo è il nostro slogan, no sindacato e mai malato! Perché soprattutto questi autisti non andranno mai al sindacato! Per cui venite da questa parte, signori, risparmiate! Ammionista senza tessera! E risparmirete il 40%! Da questa parte! Signori imprenditori, da questa parte! C'è davvero da abilirsi! Ma soprattutto c'è da arricchirsi! Arricchirsi! Niente tredicesima! Ricchi, ricchi! Niente quattordicesima! Niente quattordicesima! Niente IMS! IMS! Niente INAIR! INAIR! Niente consulente del lavoro! Niente lavoro! Niente infortuni! Niente malattia! Perché sono tutta roba di prima scelta! Fai vedere la tentatura! Guardala! Guardala che tentatura! Sono tutti veramente di primo pelo! Venghino, venghino! Ora proprio tutti tutti insomma! Vabbè! Secondo pelo! Vabbè! E andiamo! Da questa parte! L'agenzia interinale! Venghino, venghino! Venghino, venghino! Venghino, venghino!